Premio Dona 2013, siamo proprio qui davanti al Teatro Argentino dove si è conclusa l'edizione di quest'anno e siamo con Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori Italiani. Massimiliano, ripartire insieme è un'idea sostenibile, è una strada percorribile? Ora abbiamo qualche certezza in più, dopo questa mattinata intensissima di riflessioni, voci, volti, racconti, esperienze, ma tutte con un filo conduttore, l'ottimismo per un paese che può ripartire anche dalla green economy, anche dalla sostenibilità, con il contributo di tutti, così come quella mongolfiera fatta di mille palloncini, così il futuro di questo paese è fatto di imprese responsabili, di istituzioni sensibili, di consumatori intelligenti e capaci di scegliere. La parola insieme è una parola che unisce e dietro di te i consumatori e davanti a te stamane le imprese. Si possono coniugare assieme in modo ecumenico questi due elementi? Devono farlo, non c'è altra soluzione, tanto più in un periodo di crisi. La nostra organizzazione si chiama, e non da oggi, Unione Nazionale dei Consumatori e il fondatore proclamava che dovesse essere una simbiosi tra produttori e commercianti onesti e consumatori onesti, perché c'è una responsabilità anche da parte della domanda. Qual è il messaggio forte che è emerso da questa mattinata che ha visto decine di ospiti e tanto pubblico in platea? Abbiamo parlato di molti argomenti, di sviluppo intelligente, di decrescita, di felicità, è un messaggio collettivo. La parola che mi piace ricordare è proprio questo. Tutti insieme possiamo fare qualcosa per cambiare, cominciando dalle nostre esistenze di consumatori, di imprenditori, di rappresentanti delle istituzioni. Ogni anno riuscite a conferire un valore in più al movimento dei consumatori. Qual è l'obiettivo che vi ponete per il prossimo anno? O se vuoi i temi su cui pensate di poter puntare sin da ora? Questa è un'esclusiva per Key4Bits, perché il titolo dell'anno prossimo è già nella mia testa. Guarderemo al nuovo, il premio si chiamerà forse New Co, che sta per nuovi consumatori e nuove imprese. E dunque cominciamo a lavorare da domani al premio Dona 2014, nuove imprese per nuovi consumatori.